Sì, ho capito. Va bene, signora. Arrivederci. Ma chi è? Basta che non mi aprite l'acqua. Non lo so. No, ce l'avvisi a questi qua. Non lo so. Un attimo di attenzione per cortesia. Basta che in questa casa per 24 ore non mi aprite l'acqua. Che giornate che oggi. Dice, ci mi sono dolcemente. Lì, se non sono dosta, se ne carano tutte cose. Arrivederci. Ma chi siete? Come chi sono? Sono l'idraulica. Ma non avete visto la televisione? Eh, a che c'è fa? Io ne tengo tre a casa. E poi sono l'idraulica, mi faccio radio tecnica. Amico, questo è un spettacolo televisivo. Noi stiamo facendo la televisione. Stiamo in onda. Mi avete visto questa giornata, mamma mia. Ma che stai facendo la televisione a casa della nonna? E a voi che vi interessa? Gesù, allora che li li binocoli sotto le cani. Gesù, allora questi guaglioni sono ballerini. Mamma mia, carina. Una giornata proprio storta oggi. Storta, storta, storta. Amico, la chiede, un guitarrista. Buongiorno. Gesù, mamma. Madonna. Madonna, ma allora sto in mezzo all'assista. Colleghi. Ma qua colleghi. Sì, signore, colleghi, perché sotto a questo camice non c'è un'idraulica. C'è un grande artista. Questo è stato sempre il mio sogno. Finalmente il sogno che sia vero. Gesù, ma chi lo mi stanno ripetendo veramente? Mamma mia, come sto combinato qua? Madonna mia, Antone. Gesù, Gesù, e qualche cosina la devo fare? E come faccio scappare questa occasione? Voglio, e fernù, ancora per poco. Marona, sto così emozionato che non mi viene a mente niente. Aspè, mi è venuto a mente qualche cosa. Andatemi una telecamera. Qual è la telecamera? Questa. Ve la dovete portare a casa. State per zitto, fatemi lavorare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, faccio schiattare, sapete. Umorismo inglese. Ma che dico, profondo umorismo inglese. Il fatto è successo in un parcheggio custodito. Custodito, no? Cucchissi. Già mi avevano le battute. Aspè, che non è finuto qua? Ieri si è appicciata una macchina e hanno chiamato i bombieri. Oggi si è appicciata un'altra macchina e hanno chiamato i bombocci. I bombieri, i bombocci. Ma avete preso la scopissa che io la prossima volta, la prossima volta, ti torno più organizzati. Diretto, nel frattempo, eppure voi, regia, controllate l'indice d'ascolto. Diretto l'indice, ma visto che controllo l'allice, sono un fenomeno, mi viene da più e soppi e soppi e soppi. Grazie.